Il loro lavoro era veramente apprezzabile perché riuscivano a mantenere intatte delle tradizioni che altrimenti sarebbero state ingoiate dal tempo, distrutte dal tempo. Una di queste canzoni che noi la incidemmo, che loro ci dettero, è una ricerca sempre fatta sulle montagne dell'Appennino abruzzese molisano, si chiamava Pacienza nennamia e la incidemmo nel disco che se non sbaglio era Storie di Fantasia. Stasera sono loro qua presenti e quindi ci farebbe piacere fare questo brano con loro. La proviamo eh, perché non è che l'abbiamo provata così. Mesi e mesi di provi. Mesi e mesi di provi, oggi. Ci siete? Vediamo un po' come ci sono. I miei metodi. Chiari. Come altri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.